Il calcio intero se così si può dire, partiti Pizarro, Borca Valero tocca il suo primo pallone con la solita eleganza i ragazzi in mezzo all'area dentro, Comper di testa, sopra la traversa di pochissimo, Fiorentina sempre pericolosa sulle palle inattive Rossi, Borca Valero va a calciare il destro, miracolo di Karzemarkas Tre barriere ci sono in questo momento, due della Fiorentina e una della formazione turca per nascondere la vista al portiere lituano alla fine parte bene la palla verso la porta, legge comunque la direzione della sfera Karzemarkas che manda poi in calcio d'angolo l'ossessata messa fuori la sfera, Tomovic in anticipo su Dogan, quadrado, Ambrosini tutto solo, palla sul destro all'indietro per gli Aic la conclusione e poi il destro, vincente di Alberto Aquilani, il tap in ravvicinato, questo al nono minuto del secondo tempo Fiorentina in vantaggio, gli Aic tutto solo sul secondo, Aquilani servito dentro, Ambrosini di testa e c'è il 2 a 0 e il gol bellissimo di Massimo Ambrosini, 2 a 0 per la Fiorentina quindi al Benatti di Moena il capitano Ozan As, il cross che Alonso in realtà va a deviare abbattendo anche il numero 23 Tosun, calcio di rigore e palla nell'angolo alto, è andato a calciarlo Medujanin che è un giocatore bosniaco, nazionale anche lui Palla sul destro, finta, salta l'uomo, poi sinistro, perde l'attimo forse Alonso, il tacco ancora per gli Aic dentro, esce e arriva il 3 a 1, un'azione bellissima della Fiorentina il 3 a 1, siglato Adem Ljajic, il tacco di Alonso per il giovane serbo il pubblico esaltato qui nella tribunetta del Benatti gol bellissimo, tutto questo praticamente in chiusura di gara siamo al quarantesimo di questo secondo tempo scaricarsi anche l'applicazione Puffin per poter vedere da tablet e occhio a Vessino destro avvicinato 4 a 1 per la Fiorentina il gol è siglato da Vessino intanto delle indicazioni diverse con questo primo test molto significativo probabilmente rispetto alle altre partite sì, test importanti contro avversari di buon livello quindi hanno giocato in maniera italiana come tante volte ci è capitato di affrontare avversari in questo modo quindi è stato un buon allenamento sotto questo punto di vista naturalmente dobbiamo migliorare nella velocità del possesso palla però delle indicazioni positive ci sono state un test differente anche perché nella ripresa ha messo nei primi 15 minuti almeno una squadra mista cercando di vedere sempre tutte le situazioni di provare gli uomini insieme sì, anche di variare, di fargli trovare un po' di come dire, un po' di intesa ma questo succede anche in allenamento quindi è importante portare avanti e allenare durante le partite il più giocatore possibile questo è il primo obiettivo in questo momento e soprattutto che non si infortunino e che possono terminare la preparazione che è la cosa più importante tre giorni per questa fine di ritiro questa era l'ultima amichevole a crescere praticamente a salire di questa striscia di amichevoli e poi si parte per due test internazionali che forse danno altre indicazioni importanti sì, sicuramente ci dobbiamo preparare all'Europa League andiamo a affrontare due squadre che sono abituate a giocare in Europa e quindi sotto questo punto di vista sicuramente è proprio te perché è quello che andremo ad affrontare il 22 quindi il livello degli avversari è notevole quindi saranno sicuramente partite significative anche per capire la condizione psicofisica di ognuno di loro lascio la conferenza stampa di rito le chiedo solo per una sensazione quella di un Liaic che va a salutare il pubblico e che lo acclama sappiamo che non ama appunto la piageria verso i tifosi però insomma in questo caso è stato quasi un saluto un gesto di riconoscenza del ragazzo credo che Adam l'abbia capito che i tifosi volentini non solo loro vogliono o vorrebbero che lui rimanesse naturalmente passate c'è stata qualche critica verso di lui che probabilmente in quel momento se poteva anche essere meritata perché magari si aspettavano di più da lui lui è un ragazzo questo lo deve capire però adesso che ha dimostrato in quest'ultimo anno che ti sentire la maglia addosso al di là delle prestazioni tecniche credo che i tifosi questo gliel'abbiano riconosciuto grazie e complimenti come sempre